E' il countdown che segna l'inizio della gara, quella che porterà Olbi a conquistare la vetta della classifica del Grand Prix, gli assoluti di downhill di scena sul tracciato ad altissima velocità di Montegnieddu. Padru si conferma una pista perfetta per gli amanti della downhill, che domenica 19 novembre si sono dati appuntamento nel cuore montuoso della Gallura, a trionfare col tempo di 2 minuti 20 secondi è Gianluca Cara dell'Olbi a Racing Team, già nove volte campione regionale di downhill e due di enduro. Abbiamo riportato la maglia di enduro, di downhill e del Grand Prix. Quest'anno Olbi a povantare di avere dei campioni, soprattutto l'Olbi a Racing Team. Adesso appuntamento tra due settimane ad Alghero per la seconda di Sardinia Enduro Challenge di enduro. Niente, in bocca al lupo a noi. Circa 60 i biker in gara provenienti da tutta la Sardegna. In sfida i talenti dell'Olbi a Racing Team, quelli della Zema di Tempio, il team Spaccarote di Carbonia, l'Alguero Bike, da Sassari il Fausto Coppi 72, il ciclo bottega Factory Team e infine Mistral DH di Alghero. Da segnalare l'età dei partecipanti, dei 12 anni agli over 50, segno evidente di un sentimento per la downhill in costante crescita. Nel tracciato di Padru, un chilometro e 800 metri di discese vorticose, trassalti, droppe e pietraie, sono stati i campioni del Sodalizio Olbiesi a conquistare l'intero podio. Con Cara, campione assoluto, seguito da Davide Longo con 2 minuti e 25 secondi, Francesco Ortu con 2 minuti e 26 e un ottimo quarto posto per Gianluca Spano, ritornato in pista dopo un grave infortunio, la festa in chiusura segna il successo dell'appuntamento sportivo e il momento del terzo tempo tra musica, cibo e sorrisi.